e salve a tutti ragazzi sono canon news e ben ritornati in questo nuovo video in questo nuovo video dopo tantissimo tempo finalmente ne riporto un altro ma veramente grazie a dio che sono riuscito a trovare un pochino di tempo per poter registrare questo piccolo video in questo video come da titolo veramente vi domandate da dove è uscito fuori beh è molto semplice è uscito poi da questa richiesta qui scusate ho un pochino di tosse nel gruppo telegram credo da me in poche parole vi ricordo che leggete tutte queste cose che ci stanno adesso vado direttamente sull'applicazione perché non ci sto ok potete vedere è un po' buggato ok finalmente si è glitchato è un po' glitchata l'applicazione telegram ma non è un problema serio ok potete vedere questo è un canale un canale un gruppo creato apposta per farmi alcune richieste come ad esempio qua mirko potreste avere un video di commentare i posti per i posti per i progetti beh in questo video vi mostro come si fa ora fatemi ritornare su fortnite ed eccomi qui e ora vado direttamente sul sulla modalità che onestamente mi dà un po' fastidio questa storia che hanno cambiato questa cosa non posso più andare direttamente su salvo al mondo ok detto questo i posti progetto non sono solo posti progetto ma sono anche posti sono letteralmente lo spazio che potete mettere tutto quanto buttare come eroi soldato insomma eroi soldato costruttori ninja straniero anche i difensori anche questo difensori anche i superstiti tutto quanto tutti quanti occupano spazio anche progetti tutto quanto occupa spazio quindi poche parole per aumentare questo spazio però dovete andare qui esattamente qua intanto prima di tutto fatemi ricordare quanti ne ho 1292 quindi adesso voglio andare il numero di 5 quindi ne vado a comprare altri 8 e per comprarli ed aumentare dovete andare a comprare questi slot vettoni c'è sto slot armeria ecco qua costa 25 l'uno ecco questo potete aumentare tranquillamente lo spazio in teoria dovrebbe esserci 10 qui e 100 di qua ma sembrerà che questa opzione l'hanno tolta da molto tempo una volta fatto potete notare che i vostri slot o spazi sono aumentati io onestamente ne ho 1300 quindi non ho più bisogno di comprarli ma se siete collezionisti come me e volete ottenere tutti quanti gli eroi tutti i tipi o tutti i tipi di progetto di tutti i tipi come vedete io sto collezionando tutti potete continuare a comprarli io questi non li compro come potete vedere uno ce l'ho nella lista raccolta e uno tra gli eroi quindi non ne ho bisogno questo non ne ho bisogno di pensori ne ho già abbastanza quindi detto questo questo video è tutto e ci vediamo magari un prossimo video che in teoria forse potete registrano tra poco e questo è il flusso agendario che credo occupi spazio voglio vedere se occupa spazio nel 682 negozioniamo tanto questo è importante tanto vale sempre comprarlo che ho detto numero 632 comando eroi stici 682 a quanto pare quello non occupa spazio perfetto quindi fa nella parte della sezione dei risorse che non occupa lo spazio onestamente non ha molto senso vabbè detto questo con questo video è tutto ci vediamo un prossimo video e ciao a tutti